Da adesso parola d'ordine fiducia perché Taranto vuole essere pacificata, Taranto vuole guardare avanti, Taranto è stufa delle grida, degli insulti, è stufa di fare figuracce fuori, Taranto vuole mettere il vestito migliore e diventare una città europea e da domani ci mettiamo a lavoro. Grazie a tutti i volontari, grazie alla famiglia, allo staff, agli amici e ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta voi. Stasera tornate a casa, li troverete che dormono, domani mattina gli dite ai vostri figli che forse si può aspettare a fare le valigie e andare via perché ci possiamo consegnare un futuro diverso. Da domani tutti a lavoro. Con il 50 e 91% dei voti è Rinaldo Melucci, il nuovo sindaco di Taranto, 26.913 preferenze, circa 10.000 in più rispetto a quelle del primo turno, 16.799, con un'affluenza però quasi dimezzata. L'11 giugno hanno votato il 58 e 51% degli eventi diritto, il 32 e 87% al ballottaggio. 958 voti in meno hanno segnato la sconfitta per Stefania Baldassarri, votata da 25.955 cittadini, cioè dal 49,09%. Volto nuovo del centrosinistra, di fatto, lo riunisce Rinaldo Melucci a livello locale, regionale e nazionale. Emiliano lo ha sostenuto in campagna elettorale, ma anche il ministro dei Vincenti e il vice ministro Bellanova. Anche su Taranto, in vista delle politiche, lo sguardo di Renzi. Si è fatto sentire Emiliano? Sì, sì, ci siamo salutati, ovviamente molto soddisfatto perché tiene molto alle sorti di Taranto. E Renzi? Sì, ha provato a chiamarci, eravamo ancora nella concitazione, avremo modo di salutarci.